Sapete che per le mie giornate al sole uso Armstrong Limited Edition, questo è uno spray solare 30, aiuta a proteggere ma anche l'attivazione della brandatura. Se ancora non l'avete acquistato fate un bello swipe up! Ciao a tutti, manca davvero pochissimo, solo 7 giorni alla fine del concorso, e sì, per vincere una bellissima 500 Hybrid. Cosa dovete fare? Andate sul post dedicato dove ci sono io e la macchina e lasciate un commento, taggate tre amici e seguite la pagina della casa dell'ascarcasas.it Quindi mi raccomando affrettatevi perché potreste proprio vincere voi. E sì, mi chiedete anche sempre di chi sono le mie nuove cover, le fanno loro, sono specializzati, quindi seguite la casa dell'ascarcasas.it I'm at the beach, I'm at the beach, I'm at the beach, now I can picture you standing beside me, my hand in your hand and I'm at the beach. I'm at the beach, now I can piuольше, sit per l'angu vidéo, viagąda i questo cold, volvi tutte le。」 It's like, Uuoi! It's time- Figure magro verso io con teglipo, I'm at the beach, Or班 si rozi teglipo teglit Grazie a tutti.